E sì, siamo costretti ancora a parlare di Zeman. Come mai tutto questo interessamento del Boemo di voler tornare sulla panchina del Pescara? Beh, crediamo che ci sia qualcosa da precisare perché Zeman, tre anni fa, dopo quella cavalcata vincente, e nessuno toglie meriti a lui per un campionato strepitoso, diciamo tre anni fa davanti a centomila persone, rimase di ghiaccio davanti a quell'entusiasmo e decise di lasciare la panchina del Pescara per andare alla Roma. Lo scorso anno i dirigenti del Pescara tornarono ancora alla carica per riportarlo qui in Abruzzo, Zeman prese tempo, quasi un mese e mezzo, lasciò tutti sospesi e poi optò per il Cagliari. Quest'anno evidentemente non aveva grandi richieste. Ha sbagliato forse il presidente Sebastiani a corteggiarlo ancora quando Baroni era sulla panchina del Pescara ma il suo destino era già segnato. Zeman poi non è entrato più nel mirino della società bianco-azzurra. Lui si è lamentato di proposte indecenti. Crediamo che una proposta indecente comunque non era inferiore ai 130.000 euro promessi al nuovo allenatore del Pescara, Oddo. Quindi evidentemente faceva soltanto un discorso economico per tornare a Pescara dopo una parabola discendente di risultati. Beh, Zeman è tornato a parlare continuamente nelle ultime 24 ore. Era rimasto muto negli ultimi tre anni quando si parlava di Pescara, dell'affetto dei tifosi verso di lui. Invece Zeman pensava a tutt'altro. Oggi invece è rimasto amareggiato. Povero Zeman che è dovuto andare in Svizzera per collocarsi di nuovo su una panchina di Serie A. Sì, Sebastiani ha detto che Zeman con Pavone che ha fatto da tramite poteva anche essere il nuovo allenatore dopo Baroni. Ma sicuramente la scelta di Oddo è stata importante per proseguire un nuovo percorso. È ovvio che il boemo non ci meraviglia nel suo atteggiamento. Non ha mai amato questa città. L'unico amore tra Pescara e un allenatore è quello con Galleone. L'unico profeta resta Giovanni Galleone che ha sempre detto sì alle richieste e alle esigenze della piazza pescarese. Zeman farà il suo percorso. Sebastiani ne farà un altro. Finalmente si chiude questo tormentone. Ma Zeman non deve proseguire a dire che questa è una società inaffidabile. D'altronde lui voleva tornare quindi la riteneva affidabile. Dopo una settimana soltanto perché non ha ricevuto più l'ok dal gruppo dirigenziale della Pescara se l'è presa ed ora urla tutta la sua rabbia. Pescara finalmente può fare a meno di Zeman.